Dopo aver visto la prima sezione dei canti, ovvero le canzoni gli idilli, veniamo adesso alla seconda sezione, ovvero i canti pisano-recanatesi. Di cosa si tratta? Andiamo a vedere bene nello specifico. Si tratta di componimenti scritti tra il 28 e il 30. Abbiamo già detto che questo nome di canti pisano-recanatesi viene proprio dal fatto che si trattò di liriche composte a Pisa, iniziate a Pisa e poi terminate una volta che Leopardi tornò a Recanati. Quali furono questi canti? A Silvia, Le ricordanze, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, La quiete dopo la tempesta e Il sabato del villaggio. Si tratta per tutti quanti questi canti di componimenti lirici secondo il metodo della cosiddetta canzone libera. Abbiamo già detto che Leopardi in un primo tempo si rifece alla canzone petrarchesca che aveva una sua norma, aveva le sue regole. Successivamente e gradualmente si liberò da queste regole della canzone petrarchesca, prima con un numero variabile di versi, poi con una mancata responsione tra le varie parti delle sezioni, cioè appunto tra fronte e sirma e alla fine appunto con una serie di versi che non rispettano né la divisione tra fronte e sirma, né il numero di versi previsto, né addirittura il legame di rime. Parliamo infatti di versi irrelati, cioè diversi che non si uniscono, non si accostano tra di loro attraverso un legame di rime. Vengono comunemente chiamati questi canti pisano e recanatesi grandi idilli, per differenziarli proprio dalla sezione che abbiamo visto precedentemente, cioè quella degli idilli, ovvero quindi finito la sera del dì di festa e il passero solitario. In realtà è una definizione sbagliata. Perché questo? Perché mentre gli idilli vengono fuori da un'occasione, cioè gli idilli partono dalla contemplazione della natura e la contemplazione della natura rappresenta un avvio verso appunto l'interiorità del poeta. Invece, al contrario, i canti pisano e recanatesi non partono dalla contemplazione della natura. Cioè, nei canti pisano e recanatesi, gli elementi naturali e paesagistici, che sono comunque presenti all'interno delle liriche, hanno però una valenza diversa, cioè non sono l'oggetto della rappresentazione, sono soltanto dei simboli. E un altro aspetto importante che differenzia effettivamente queste due raccolte, Da un lato, negli idilli, c'è una momentanea sospensione del dolore rappresentato dalla consapevolezza del vero. Cioè, negli idilli c'è questa riflessione interiore che porta ad una sorta di consolazione. Cioè, abbiamo detto che la poesia negli idilli è una poesia consolatoria, è una poesia che allontana momentaneamente dagli affanni, dal dolore, dalla sofferenza. Al contrario, invece, nei canti pisano e recanatesi, questa consapevolezza del dolore non viene mai meno. Quindi, i canti pisano e recanatesi sono piena e totale espressione del pessimismo cosmico leopardiano, senza nessuna possibilità, appunto, di requie, di calma, di illusione. L'illusione non esiste più. Andiamo a vedere una differenziazione che possiamo fare all'interno di questi cinque componimenti. E' una differenziazione che viene fuori dalla presenza o meno, diciamo così, di recanati. Nelle liriche intitolate a Silvia, le ricordanze, la guida dopo la tempesta e il sabato del villaggio, recanati è fortemente presente. Mentre, nell'altra lirica che considereremo, cioè il canto notturno di un pastore errante dell'Asia, recanati invece non è più presente. E quindi il discorso si, diciamo, si amplia e diventa un discorso esistenziale legato agli uomini di tutti i tempi. Veniamo quindi alle liriche legate a recanati. A Silvia è l'unica lirica composta a Pisa, mentre gli altri canti sono stati composti successivamente a recanati e quindi nascono dalla situazione psicologica di un ritorno ad un luogo non amato, di un ritorno quasi direi forzato ad un luogo non amato. Si parte sempre all'interno di questi canti da un vissuto e poi si allarga il discorso introducendo il ragionamento in maniera più ampia. Nei primi due componimenti, cioè in A Silvia, nelle ricordanze, è molto molto forte l'elemento autobiografico. Cioè il poeta narra la propria storia personale dividendola in due età. La prima età è quella dell'infanzia e dell'adolescenza, che sono nutrite di speranze. La seconda età invece è l'età adulta, in cui invece si è rivelato definitivamente il vero. Sono presenti descrizioni di ambienti di persone semplici, che quindi Leopardi in qualche modo ha conosciuto, con cui si è relazionato all'interno di recanati, ma persone semplici che non vengono ovviamente nominate, ma diciamo fanno un po' da sfondo a quello che è il ricordo della sua vita a Recanati. E rappresentano un po' l'esterno rispetto al poeta. È sempre forte la contrapposizione tra interno ed esterno, perché è forte la contrapposizione tra io e gli altri presenti appunto nelle opere di Leopardi. Quindi Leopardi comunque non trova nessuna corrispondenza nel mondo esterno. Quindi questa scissione tra io e mondo è una scissione sempre molto forte nelle sue opere. Recanati inoltre è sempre vista all'interno di questi due componimenti, cioè in Assilvia e nelle ricordanze, è vista in maniera negativa, come appunto un borgo selvaggio che rappresenta quindi un motivo di sofferenza e di oppressione in Leopardi. Vediamo velocemente nello specifico ai due componimenti. Assilvia prende il nome da una sorta di omaggio che Leopardi ha voluto fare a Tasso. Perché? Perché Assilvia richiama la poesia pastorale, la poesia silvana, cioè la poesia dei boschi. Assilvia chiaramente è il nome latino per indicare il bosco. E quindi in particolare c'è un riferimento all'opera pastorale di Tasso che appunto era la Minta. Ricordiamo sempre che Tasso è stato un poeta che ha rappresentato un riferimento fondamentale per Leopardi, perché Tasso rappresenta in Leopardi il poeta della sofferenza, il poeta moderno, diciamo così, l'uomo moderno che quindi soffre questa scissione tra reale e ideale, che si contrappone invece all'uomo antico, che è rappresentato invece da Ariosto, come abbiamo già detto, che è il poeta della fantasia. Questa Silvia, diciamo, va verosimilmente identificata con Teresa Fattorini, che era la figlia del cocchiere di casa Leopardi, che è morta in giovane età. Il fatto che però ci sia questa identificazione ha un'importanza secondaria, potremmo anche dire che non abbia nessuna importanza, perché? Perché quello che è il sentimento di Leopardi, che poi permette a Leopardi di generare una riflessione, non è tanto il rapporto con una persona concreta, cioè il rapporto con questa Teresa Fattorini morta in giovane età, quanto piuttosto il rapporto con una sensazione che Leopardi ha vissuto in quell'epoca in cui morì questa giovane. Che vuol dire? Vuol dire che Leopardi non ha tanto sofferto per il fatto che questa donna sia morta, quanto piuttosto ha sofferto per il fatto che sia morta una persona in giovane età, una persona che non ha potuto conoscere la verità, una persona che è morta nel fiore degli anni, quindi che è morta nel momento in cui ancora erano forti e vive le illusioni, le speranze di un avvenire futuro. Quindi Silvia e la morte precoce di questa Silvia sono l'incarnazione di un simbolo, cioè rappresentano le speranze, rappresentano i sogni, rappresentano le fantasie, di quello che Leopardi definisce il vago avvenire, che sono tutti elementi propri della fanciullezza. E quindi Silvia rappresenta un po' lo svanire improvviso di tutti questi sogni quando appare invece il vero, ovvero il momento dell'età matura, in cui la natura svela i propri inganni. Silvia che cos'è quindi? Non è una donna concreta, ma è una proiezione un po' del pensiero, della vicenda esistenziale di Leopardi. E quindi appunto bisogna leggere in questo componimento senz'altro non un aspetto del ricordo specifico di una persona, quanto come abbiamo detto appunto il rapporto emotivo un po' con una situazione, la situazione appunto di una morte in giovane età. Che cos'è invece la lirica alle ricordanze? La lirica alle ricordanze invece è proprio un richiamo specifico a quello che è stato il ricordo dell'infanzia e della fanciullezza di Leopardi all'interno di Recanati. Sono ricordi che quindi si dipanano nel passato di Leopardi e che quindi anche qua, insomma, si contrappongono alla dolore della vita presente. Qui compare un altro personaggio femminile che però è un altro personaggio simbolo ed è Nerina. Cosa rappresenta Nerina? Nerina rappresenta il ricordo, il puro ricordo appunto che in Leopardi diventa appunto l'oggetto, diciamo così, della lirica. Vediamo invece alle altre due opere, ovvero La quieta dopo la tempesta e Il sabato del villaggio. In queste due liriche la componente autobiografica è sempre presente ma è meno forte. Quindi Recanati non è più il borgo selvaggio che rappresenta la sofferenza ma è soprattutto un microcosmo, un luogo simbolo da cui poi la riflessione di Leopardi si allarga all'intera umanità. Quindi quello che succede a Recanati, gli eventi legati a Recanati sono espressioni di meccanismi più bassi di funzionamento perché riguardano appunto tutti. E andiamo un po' nello specifico. Nella quieta dopo la tempesta l'idea di fondo è che la felicità non esista in realtà ma sia soltanto definibile per negazione. E che cosa non è la felicità? Di fatto la felicità non è affanno. Quindi la felicità consiste in quegli attimi, in quegli attimi illusori in cui si può vivere una, diciamo, una mancanza di dolore. Perché la tempesta? Perché in qualche modo la felicità rappresenta proprio quell'attimo, quel momento in cui passato, diciamo così, momentaneamente il periodo di sofferenza è come se si tirasse un po' un sospiro di sollievo diciamo che rappresenta però soltanto un momento di quiete momentanea prima che arrivi una nuova fortissima appunto sofferenza, un nuovo fortissimo dolore. Quindi si tratta veramente di attimi, diciamo così, di mancanza in un certo senso di dolore, attimi di gestazione di dolore, stati momentanei di non dolore, quindi brevi quiete, brevi momenti di quiete all'interno della tempesta della vita. Una sorta di piacere che viene fuori da provvisori, momentane, insomma, interruzioni dell'affanno. Nel sabato del villaggio viene un po' riproposto lo stesso tema, cioè questo tema appunto della presenza del dolore e dell'affanno che però vengono visti in una chiave diversa, cioè in una chiave legata in qualche modo all'aspettativa del futuro. Cioè, mentre nella quiete dopo la tempesta questa sorta di felicità illusoria era soltanto un attimo di quiete all'interno di un percorso totalizzante di sofferenza, nel sabato del villaggio questo attimo di felicità è rappresentato dall'aspettativa, dall'aspettativa del domani. E quindi è il sabato, perché è il momento delle speranze, in contraposizione con la domenica. Il sabato a sua volta è simbolo della giovinezza, in cui si crede che ci sarà un avvenire lieto e quindi si spera in questo avvenire che deve ancora verificarsi. E quello rappresenta un momento di felicità. La domenica invece, la festa della vita, ovvero l'età adulta, rappresenta il definitivo disvilamento del vero e quindi il momento in cui non è più possibile nutrire speranze, perché si ha la consapevolezza che tutto è sofferenza e che quindi appunto non ci sono felicità se non degli attimi, dei momenti illusori. Veniamo all'ultimo, diciamo, veniamo all'altro componimento che abbiamo detto non ha per oggetto recanati, il canto notturno di un pastore errante dell'Asia. Leopardi prende spunto da un articolo apparso, insomma, sul giornale dell'epoca in relazione all'abitudine dei pastori chirghisi di trascorrere le notti a contemplare la luna e di intonare in queste notti dei canti nostalgici. Quindi, chi è questo pastore? Questo pastore rappresenta un po' un primitivo, rappresenta un uomo che vive in uno stato, diciamo così, primitivo, vive come potevano vivere un tempo gli antichi e che dà sfogo al suo canto doloroso che è il dolore proprio appunto esistenziale durante la notte. Perché è importante questa lirica? Non solo perché, diciamo, mette in luce proprio questo tema esistenziale del senso della vita umana svelando, come sempre, insomma, questo tema di fondo della sofferenza umana e non solo perché si supera il motivo autobiografico e quindi non c'è più un'ambientazione recanatese ma appunto il discorso diventa un discorso più generale. Ma anche e soprattutto perché è importante questo canto? Perché rappresenta diciamo un po' quel superamento dell'idea che gli antichi, i primitivi fossero felici. Cioè, in questo canto il pastore errante che è di fatto un primitivo e che quindi vive come potevano vivere un tempo appunto gli uomini del passato è un uomo che soffre e quindi evidentemente anche la poesia del passato diventa per Leopardi la poesia della sofferenza, la poesia del dolore. Quindi c'è il superamento di quell'idea di contrapposizione tra antichi e moderni che invece aveva rappresentato un punto di riflessione fondamentale nella prima poetica di Leopardi e quindi in questa fase Leopardi è consapevole del fatto che anche gli antichi sono caratterizzati da sofferenze e che quindi la civiltà il progresso la ragione non hanno portato maggiore sofferenza negli uomini quindi anche gli antichi soffrivano perché la sofferenza è una condizione esistenziale imposta da una natura matrigna quindi siamo nell'ambito in cui nel momento in cui diciamo così il pessimismo cosmico quindi l'idea di fondo che la natura sia matrigna che abbia caratterizzato in negativo le sorti degli uomini è un'idea generale c'è un ultimo aspetto che va sottolineato all'interno di questi canti pisano-recanatesi in linea generale ovvero l'idea che ci sia la cosiddetta poetica come è stata definita della doppia vista di che cosa si tratta si tratta del fatto che gli oggetti le esperienze che sono presenti all'interno di questi canti sono viste contemporaneamente sia nella loro limitatezza e mancanza di significato che di fatto è stata rivelata dal poeta dagli studi filosofici sia però anche nella suggestione emotiva e fantastica che hanno avuto un tempo cioè è come se questa poesia si fondasse sul ricordo della giovinezza e questo ricordo della giovinezza che cos'è se non l'antichità del poeta stesso e quindi in questo modo la poesia che si basa sul ricordo è una poesia dell'immaginazione che è di fatto una poesia simile a quella degli antichi e questa poesia supera un po' i limiti della moderna poesia sentimentale insomma che Leopardi tanto andava appunto denigrando e di fatto quindi il poeta attraverso la poesia della rimembranza cioè attraverso la poesia del ricordo è in grado anche dopo aver conosciuto il vero di riproporre delle illusioni e di conservare queste illusioni anche nel momento in cui è consapevole della triste verità e queste illusioni gli permettono di conservare un po' la sua creatività poetica quindi ripeto la cosiddetta poetica della doppia vista che poi andremo ad analizzare meglio leggendo alcuni passi dello Zibaldone e poi